Il nostro progetto è chiamato Simmersham, una farmacia regionale regionale. Il nostro progetto è un progetto per il sviluppo di alghe nella regione Osterlaine. Se avvicinare la mappa, sapete che ci sono alcuni componenti che costruiscono il progetto. Nell'altra parte vedete le regioni topografiche, descrivendo in dettaglio le caratteristiche del luogo, e sotto la biodiversità algale della regione. Il principale componente nel medio è invece quello che chiamiamo il progetto di coazione, con le molte attività che sono presentate nel luogo, e creando i nuovi prototipi, che invece sono presentati sul canale. Nell'altra parte vedete i nuovi attori e gli agenti pubblicano le loro attività. Anche alcune visualizzazioni di questo potuto futuro prototipo di alghefarmine, come la riuscita nel crano del porto. Un altro componente della nostra esibizione del progetto è il giardino. Let's enter the garden. The first process that we can encounter is the photosynthesis. By blowing CO2 in the photobioreactor, you will release oxygen, as well as stimulating the production of new, more oxygen bubble inside of the photobioreactors. The second process is the direct interaction or cultivation of the garden. When you touch the tubes to blow CO2, the garden will register your present and blink you back with the LEDs, as well as will record your interaction and store it in his memory for the future. Another way of interacting with the garden is observing the aesthetic quality of this hanging garden of algae. We have in fact here like 7 types of different algae that are showcasing different type of colors, from red to blue to green, as well as different type of consistency depending if they are microalgae or filamentous macroalgae. We can observe also the microecology inside of the bag, through the small lenses which is provided, which will allow us to better see the bubble, the algae and the little shrimps living inside of the ecology. like Totplitude, That is a nice day to see the fun! A lot of interaction with words are